Occupazione sono 7.620 contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusiossola e Vercelli per questo giugno 2021. 3.010 unità in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento di 2.110 rispetto all'analogo periodo 2019, prima della crisi legata alla pandemia. Oltre il 70% delle entrate programmate saranno con un contratto a termine. La situazione nel VCO, le entrate attese sono 1.540, 630 in più rispetto sia a giugno 2020 sia a giugno 2019. Solo nel 18% dei casi saranno stabili. Sotto il profilo settoriale le assunzioni si concentreranno prevalentemente nei servizi 75% dei casi. Il 68% inoltre troverà collocazione in imprese con meno di 50 dipendenti. Per quanto riguarda il profilo professionale, l'11% dei contratti sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, una quota inferiore alla media nazionale, mentre il 9% interesserà personale laureato. La domanda di giovani under 30 riguarderà invece il 32% delle entrate provinciali. In 26 casi su 100, le imprese del VCO prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati. Allargando l'analisi previsionale al trimestre giugno-agosto, le entrate previste saranno complessivamente 3.240. I principali settori di riferimento sono il commercio, i servizi di alloggio e ristorazione, i servizi alle persone, le costruzioni e le industrie metallurgiche. Per il Novarese, 3.400 entrate in programma, in aumento di 1.220 unità rispetto a giugno 2020 e di 860 rispetto al 2019. Solo nel 20% dei casi saranno stabili, anche cui assunzioni soprattutto nell'ambito dei servizi. La domanda di giovani under 30 riguarderà il 37% delle entrate novaresi. In 34 casi su 100, le imprese di Novara prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati.